Il Presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Senatore Luciano D'Alfonso, ha illustrato questa mattina la stampa, lo schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato, sul quale il Senatore D'Alfonso ha svolto un ruolo di relatore in Commissione che, dando attuazione all'articolo 27 del DL 3420, prevede la Costituzione nell'ambito di cassa, deposito e prestiti, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni a sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Mi dispiacerebbe se gli strumenti di patrimonio destinato, 44 miliardi di euro, andassero ad animare e alimentare solo le imprese della Lombardia, del Veneto, del Piemonte o delle grandi regioni del Sud, magari scavallando e scavalcando le regioni di mezzo come l'Abruzzo, in ragione del fatto che magari c'è un po' più di timidezza nell'utilizzare le risorse dell'ordinamento. Noi dobbiamo fare in modo che anche qui si verifichi, perché lo spirito di patrimonio destinato è di fare in modo che l'impresa, che è sicura di recuperare redditività, moltitudine nei suoi destinatari circa i prodotti e i servizi che realizza, l'impresa deve essere aiutata a riprendere il volo, a fare innovazione, ricerca, a rifare investimenti, a riguardare con interesse anche l'esportazione. Purtroppo la pandemia ha rappresentato un blocco, ha cancellato le moltitudini negli incontri con le imprese. Noi dobbiamo fare in modo che ricominci a girare la ruota dell'economia, anche sottoscrivendo debito buono, perché patrimonio destinato si alimenta di debito buono. È un investimento che nel bilancio dello Stato è retto con il debito, ma il debito è buono se genera la ripresa dell'economia. E la ricostituzione domani, attraverso una corretta fiscalità da impresa, da economia, ricostituisce anche il bilancio dello Stato. C'è una raccomandazione scritta che noi facciamo al Governo affinché le imprese partecipate da patrimonio destinato valorizzino le quote di genere, realizzino una parità di opportunità anche per quanto riguarda i generi, sia per i consigli d'amministrazione che per la crescita delle responsabilità dirigenziali e anche per l'innalzamento verso l'alto e in termini equitativi rispetto uomo e donna devono avere una retribuzione corrispondente.